Io penso che l'autonomia di un Tigulio o di una zona omogenea come è il Levante dell'area metropolitana può anche essere questa, ma io penso che la stessa città metropolitana nello statuto dice che si devono formare degli ambiti omogenei. In regione se ne discute da tanti anni, Savona c'è riuscita, ha fatto un subambito molto omogeneo della Val Bormida e di altre zone limitrofe che sono staccate da Savona. Se passasse questa linea, ne parleremo adesso in regione, io penso che potremmo essere più autonomi sotto questo punto di vista perché dividere la provincia è impossibile perché ormai noi sappiamo che la città metropolitana è una legge nazionale e non si può toccare, però nell'ambito della gestione delle acque e soprattutto dei reflui può essere importante perché è il ciclo integrale delle acque. Noi abbiamo nei nostri bacini in briferi che sono totalmente diversi da quelli di Genova. Questa sera ha messo soprattutto che non si riesce a capire perché della posizione di Sessi Levante. Innanzitutto non la capiamo nessuno, a meno che non si dia un valore di partito. Nella città metropolitana è impensabile che dei comuni, della Val Trebbia, al di là che siano anche degli amici, i sindaci, possano discutere di scelte di un territorio che è totalmente diverso da quello che loro considerano, ma è totalmente diverso anche sotto l'aspetto geografico, è tutto diverso. Cioè la cosa che non si vuole capire, al di là delle parole, provincia, non provincia, città metropolitana, il problema è che noi come Tigulio eravamo uniti in una scelta, scuso ovviamente Sessi Levante, però eravamo uniti su una certa decisione e secondo me siamo noi che dobbiamo decidere sul territorio.